20 milioni di euro per finanziare l'implementazione di sistemi di videosorveglianza in altri 267 comuni sardi. È quanto ha stanziato un bando sportello promosso dalla Regione che è stato presentato stamattina a Villa Devoto dal Presidente della Regione Francesco Pigliaro, dagli Assessori degli Affari Generali Filippo Spano e degli enti locali Cristiano in Rio. L'obiettivo è quello di estendere la rete di monitoraggio a tutti i comuni sardi per garantire la sicurezza dei cittadini e un supporto alle forze dell'ordine nelle indagini in caso di fatti delittuosi. Ci sono 20 milioni ulteriori per portare la videosorveglianza nei 267 comuni che ancora non la avevano. Diciamo sempre che dobbiamo combattere lo spopolamento. Per combattere lo spopolamento servono molte cose, serve un'attività economica che crei lavoro naturalmente, come un'agricoltura di qualità, servono trasporti, serve però anche la sicurezza. Quindi questa non è la soluzione di tutto ma è un tassello cruciale nel quadro che stiamo disegnando per combattere lo spopolamento. La sicurezza serve ai cittadini, alle persone oneste e noi stiamo lavorando e investendo molto per garantirla a tutti ovunque in Sardegna. Abbiamo fatto tesoro di una serie di indicazioni che ci venivano dal precedente bando. Abbiamo scoperto che gli incentivi, il premio a essere associati non era sufficiente e quindi noi ci muoviamo sempre senza costrizioni, ma per incentivi, per ragionamenti. In accordo con l'ANCI abbiamo detto puntiamo tutto sull'associazione. È un'iniziativa imponente, consente la copertura integrale del territorio regionale e delle realtà urbane di tutti i paesi della Sardegna. Questo consente di garantire e assicurare un livello più elevato di sicurezza per i cittadini, consente di prevenire i reati contro le persone e contro il patrimonio pubblico.